persone e personaggi è il tema di fondo che guiderà l'attività didattica In linea con gli Atenei Lombardi, anche l'Uni3 di Lodi ha deciso di sospendere le attività per un'altra settimana la presidente Marinella Molinari Buongiorno, saluto tutti i miei studenti, docenti dell'Uni3, degli soci, simpatizzanti e mi sento di dire che dato il prolungarsi di questa situazione del coronavirus e sentendo anche che si sta avvicinando in queste ore ecco ci sarà un prolungamento, un decreto da parte della regione Lombardia quindi ritengo opportuno sospendere ancora per una settimana le elezioni e le attività dell'Uni3 Ci tengo anche a precisare che noi saremo allineati con l'Università Lombarde perché ricordiamo che pur essendo studenti della terza età si tratta di un'università a tutti gli effetti quindi noi ci allineiamo a tutte le altre università a Lombarde e termineremo questo stato di sospensione, a meno di nuovi aggiornamenti, il giorno 7 di marzo